aderente al fascismo, per cui erano tutti antifascisti, perlomeno è stata così per tutta la vita in sostanza. In definitiva, anche se io crescevo, chiaramente vivevo col fascismo, non potevo distaccarmi da là, non c'era possibilità. Finché ero piccolo, ancora fra Valilla, però ho sempre cercato, anche se ero giovane, di scappare da quest'ambiente. Infatti, man mano che riuscivo a scuola, eccetera, io ho sempre cercato di sviare a tutte le adonate. Anche se per fare questo lavoro, un bel momento, io facevo parte anche della banda dei Marinaretti, è uno dei scappatoi, mi piaceva la musica, avevo imparato a suonare la cornetta, eccetera, eccetera, la tromba. Però, per un certo punto, mi è andata bene anche quello. Però, un bel momento, allora la situazione era questa. Quindi sono già diventato più grande, sono anche studente universitario e via discordenze. Prima ancora, la situazione era questa. Non si sa il perché, tutti i sabati c'era la donata. Da Valilla, contro Valilla, vanguardista e poi giovane fascista o è universitario. A questo cosa serviva? Io ritornavo, allora, poi lo dico, al pomeriggio si faceva a donata. Era una questione di hop, hop e hop, avanti, indietro, marcia, guarda destra, un affare di tutto questo genere, non è che fosse stato. Poi più tardi le cose invece sono cambiate un po'. E poi, non si sa il perché, alla domenica c'era sempre una sfilata. C'era sempre, più o meno una domenica sì, una domenica no, c'era da sfilare. Facevano così. E io per un po' ho sopportato questo. Poi anche lì, non ci sono più. Per abbreviarla, io un bel momento sono andato a studiare a Genova. Per tre anni studiavo all'Istituto Tortelli di Genova. E in quel caso lì, chiaramente io la mattina presto andavo a Genova, studiavo, la sera ritornavo a casa, ho solita questa manfrina di lavoro. Di là però facevo molto sport, perché anche là, allora a me piaceva fare lo sport, perché è sempre stato un mio difetto, non sono preso, no? Sono un po' ecletico. Cioè nel senso che lo facevo, non nel senso di trovare il risultato. A me piaceva perché mi piaceva fare, infatti ne ho fatte un po' di tutti i colori, insomma, dall'atletica leggera alla palacanestro, poi dove mi ci sono fermata alla palanuoto, e sono stato anche allenatore di palanuoto. E lì c'erano i Ludio Veniles, per arrivare al punto che vogliono arrivare. I Ludio Veniles sarebbero stati i giochi della gioventù, gruppi sportivi. E quindi lì io ci navigavo insieme agli altri, ho fatto palacanestro, facevamo tutte le gare possibili e immaginabili. Infatti il Tortelli era uno dei primi istituti in questo campo qui. E' un bello momento, queste gare cambiano. Allora non facciamo più atletica, canattaggio, rugby, tutto quello che volete, che ho fatto. E' un bello momento cosa succede? Facciamo il percorso di guerra. Ed è cominciata lì la storia, ha detto qui non andiamo mica d'accordo. Poi lei purtroppo bisognava farla, percorso di guerra, c'era la corsa, c'era il passaggio del fiumiciatolo, il salto della barriera, lo scavalcamento del muro, il saltare di là. Insomma, è l'ultimo lancio di una pietra che sarebbe stata la bomba. Quindi c'era già un tipo di preparazione dalla gioventù a fare un qualche cosa di diverso dopo, che poi c'è stato in sostanza. E questa a me non è andata al genio. Allora questo mi è costato parecchio, perché in un momento c'era, dato che la nostra squadra era una delle migliori, come era sempre, allora il 24 maggio si faceva il saggio. Cioè è un saggio che veniva preparato da tutti gli insegnanti di educazione fisica, attenzione, che erano tutti, provenivano tutti dall'Accademia Fascista, la Farnesina, venivano tutti di là, avevano fatto tutto il corso da lì, non è come sono adesso liberi, no? Quindi erano tutti già predisposti a questo. Tutto l'anno le scuole preparavano un determinato saggio ginico, maschi e femmine, cioè movimenti che poi... Il 24 maggio, questo, si facevano il saggio sui campi sportivi. E quindi tutto schierato, le autorità, tutti insieme. Poi c'era uno di questi insegnanti che comandava e lì c'era il saggio. Io a questo saggio non ci sono andato. E cosa mi è costato questo saggio? Mi è costato che il mio insegnante di educazione fisica mi ha rimandato di ginastica. Io sono stato, per l'ultimo anno della scuola del Tortelli, io ho dovuto fare l'insegnante, mi trovo a terra. Mi ricordo che quando sono andato giù, i miei compagni mi hanno detto adesso arrivo a Pagnini, vabbè, arrivo a Pagnini, vado là, vengo, insegnante di educazione fisica. E io ero il caposquadra di queste cose. Allora saltavo 1,50, 1,55 in palestra, eh. Non è che... Allora vado dal suo, nella palestra, Bidè l'aveva avvisato, il professore, il professore non c'era. Vabbè, il problema è per farla breve. Vado a settembre, a settembre arrivo in palestra e dico buongiorno professore e vedo che il professore è legato. Mi ha preso anche in giro e mi diceva Ma come, Pagnini tu sei rinviato? Eh sì, io sono rinviato. Qualche duro mi ha mandato qui, non solo che vengo... Ah, mi dispiace, ha fatto un po' la scenetta. Allora a te non c'è bisogno di far niente, assisti quello che sale la corda, quello che salta il plinto, eccetera. Vabbè. E all'ultimo mi dice adesso devi tu fare l'esame. E io dico, eh vabbè, facciamo l'esame. Cosa devo fare? Ha preso la... metti i saltometri, sapeva che saltavo forte, metti l'asticella, dico va bene quanto, 45 centimetri, attento, eh. L'asticella, i piedi sotto l'asticella, piedi pari, io dovevo saltare quei 45 centimetri. Lo sa che se lì io buttavo l'asticella lui mi abbociava? E mi rimandava di nuovo. Era un filedicitore, eh, questo. E io a una fifa ho detto, se metto il piede giù, lo metto così, salto. Ho fatto uno sforzo che in vita mia non l'ho mai fatto. Di lì ho saltato, sono passata proprio, hop, sono andato di là. E lui è rimasto un po' sorpreso perché, ah ce l'hai fatta, credeva che non ce l'avessi fatta. Bravo, bravo. Finita così, hai capito? Tanto per dire come io ho vissuto i miei anni.